bentornati a tutti ragazzi sul nostro canale quest'oggi ruberemo il cane di sua sorella vedremo quante ore impiegherà ad accorgersi che gli abbiamo rubato il cane sempre se se ne accorgerà come si comporterà ci vediamo fuori ragazzi ci stiamo allontanando dalla scena del crimine ora la portiamo via con noi eccoci qui ragazzi il cane l'abbiamo rapito ora ci stiamo allontanando dalla scena del crimine per non dare a sospetti e vediamo un po se se ne accorgerà ci sentiamo dopo ragazzi eccoci qua già è passata la prima mezz'ora un'ora ancora non si accorge che il cane è scomparso ora siamo venuti a fare con giretto a iper e siccome è quasi ora di pranzo andiamo a mangiare a dieta è giusto che anche il cane mangi qualcosa mangia da fare schifo mangia cane mangia almeno così quando riguarda il video puoi dire che l'abbiamo rapito ma trattato bene abbiamo portato anche a mangiare fuori il cane eccolo qua il pinger che dominava le strade di user cammina con tutta la sua forza testa alta e rispetto bribri ti abbiamo rubata amore anzi questo video dopo glielo facciamo vedere certo che glielo facciamo vedere lo senti mia mamma abbiamo rubato un cane eccoci qua l'abbiamo portata anche a media world il cane giusto che dici si trova a suo agio perché guarda me ho guardato la telecamera guardate un po' ciò che cammina guarda i figli quanto sono piccoli i frigoriferi faccio quanto sono belli dici il cane ci sta nel congelatore non nascondiamo qui finchè non si accorge che è scomparso questa è la mia zona un bel televisore addirittura in 8k ragazzi aiuto mi hanno rapinato aiuto sono stata rapita vogliono 20 euro mi prego piccola sosta di servizio andiamo bra aspetta dai tutto il gelato tutto è un bel gelato fresco tu che ne ha rapito che dici mi hanno deciso di spravaccarsi buona cena è più grande la bibita che è il panino roba da pazzi ci vediamo dopo cena eccoci qua finalmente si è accorta dopo ore e ore che il cane non c'era più ehi sarebbe mia sorella e mamma sarebbe vabbè la mamma ovviamente ok adesso eccola qui brenda brenda ti stanno cercando vero? mica brenda sta sopra ma gli rispondo di no si si digli di no non ti sento c'è brenda? no io non sto a casa ma la ritroviamo qual è? ma mi metto a cercare pure io appena torno colpe tra l'altro mia sorella si era anche svegliata quando avevo preso il cane non si è resa conto si è riadorbettata quindi proprio ciao ma purtroppo non sono riuscito a registrarlo perché pensavo che si era svegliata allora avevo levato la videocamera sì colpa mia aveva aperto gli occhi mentre stavo prendendo il cane dopodiché l'ha richiesto subito ho capito che non si era proprio svegliata però aveva aperto gli occhi siamo appena tornati è ora di rideremo il cane ho paura ma mamma ha visto tale e quale mi ha visto mi ha visto mentre dormise svegliata gli ha detto che prendeva il cane e si è riaddormentata se vi è piaciuto lasciate il like e se tutto andrà bene in futuro lo rifaremo ciao raga ciao